altro giro altro tema qui affrontiamo a nautilus nella serata di gusano e italia tv dedicato all'altra attualità o tutto quello che accade nella nell'attualità magari viene poco approfondito arriviamo noi in gilet cerchiamo di fare ve lo approfondiamo quello che si dice quello che sembra una cosa che basta perché più aggiungi si va oltre in questi casi si dice in televisione vai oltre allora se fossimo stati in altri tempi probabilmente avrebbe ovviamente suscitato maggiori interesse però avrete sicuramente letto in termini di titolistica giornalistica i professori no vax definiti così no vax tornano a scuola però senza insegnare allora il titolare della cattedra radiofonica dedicata alla formazione è Alessio Morigi con il suo programma open days tutti i giorni alle 15 su radio cusano campus ne stiamo parlando infatti in questi giorni ma mi confermi è così guarda purtroppo è così perché erano stati sospesi erano stati sospesi io non l'ho mai chiamato no vax durante tutte le puntate perché sono quei professori che non hanno ricevuto la somministrazione del vaccino sono stati sospesi la retribuzione sospesa ora con il decreto normalità il ritorno alla normalità vengono reinseriti in organico però e qui nasce la polemica non possono insegnare non possono entrare a contatto con gli studenti i presidi dicono ma sì ma dove li mettiamo ma veramente fisicamente dove possiamo ubicarli è vero i numeri non sono eclatanti ovvero ne parlavo nei giorni scorsi dovrebbe essere un docente ogni due plessi scolastici in questa condizione però c'è anche una linea di principio da tenere in considerazione noi ne parliamo in questo spazio con la professoressa sandra scicolone dirigente scolastica che fa parte dell'associazione nazionale presidi buonasera professoressa ben trovata buonasera a voi e grazie sempre grazie a lei professoressa questa norma tra l'altro inserita sembra proprio no all'ultimo secondo nel decreto sta creando mi pare soprattutto a voi dirigenti scolastici una serie di guardi io li chiamo imbarazzi perché poi è una norma poi anche molto divisiva rispetto a tutto il corpo docente no? Beh guardi partiamo da una premessa il personale scolastico è quella frangia diciamo quella parte della pubblica amministrazione che probabilmente aderito nelle percentuali più robuste in tutta la pubblica amministrazione alla campagna di vaccinazione quindi le situazioni di cui stiamo parlando sono situazioni comunque residuali ecco questa è una premessa necessaria quindi capirà bene come nel mondo scolastico coloro che non hanno aderito alla campagna rappresentano comunque una percentuale estremamente limitata tutti gli altri hanno veramente dato il loro contributo alla salute collettiva e quindi si sono vaccinati laddove possibile ci sono poi anche coloro che per ragioni legate a patologie determinate non hanno effettuato naturalmente la vaccinazione ma anche quelle erano delle situazioni tutelate ora cosa succede? succede che coloro che indefessamente fino all'ultimo hanno deciso di non aderire alla campagna di vaccinazione o che comunque non hanno contratto il virus in questi mesi perché voglio ricordarvi che se si è guariti si rientra sul posto di lavoro perché si acquisisce quel super green pass che permette intanto di potersi muovere diciamo con agilità e poter rientrare in servizio ma poi anche di essere a contatto con gli studenti bene adesso abbiamo coloro che non si sono mai vaccinati per i quali erano scattati i provvedimenti di sospensione sospensione proprio dal servizio della retribuzione che da oggi sono rientrati qualora appunto si ritrovassero sempre nella situazione di non osservanza dell'obbligo a quel punto il datore di lavoro ovvero il dirigente cosa fa? comunica loro che non possono stare a contatto con le classi questa è proprio la dicitura riportata nel decreto legge 24 e quindi vengono adibiti a mansioni che sono rientranti sempre tra quelle del proprio profilo come ad esempio attività di carattere collegiale, di programmazione, di progettazione, di ricerca, di valutazione, di documentazione, di aggiornamento, di formazione si tratta di elementi che proprio pertengono il profilo professionale quello che cambia è che loro non forniscono il loro servizio per le famose 18 ore nel caso delle scuole secondarie oppure 25-24 ore per infanzia primaria ma ne fanno 36 quindi di fatto hanno l'orario che è proprio diciamo degli assistenti amministrativi è questo, quindi non hanno sa la famosa prima ora, buco, seconda, terza ora, quinta ora proprio un orario da diciamo personale amministrativo da amministrativi per far capire anche se non sono naturalmente degli amministrativi qui però professoressa si inserisce un altro tema, un altro elemento no? perché lei giustamente ci dice sono pochissimi, noi lo avevamo anche premesso verranno impiegati in altre mansioni afferenti, comunque aderenti al loro profilo però per questi professori che non possono insegnare ci sono dei supplenti che invece arriveranno alla fine dell'anno e che saranno pagati ovviamente si è attinto a dei fondi, uno i fondi di istituto l'altro il fondo di valorizzazione degli insegnanti insegnanti stessi che hanno detto, magari quelli, poi mi corregga perché lei ne sa più di me quelli che si fanno carico di più progetti, che fanno l'alternanza scuola-lavoro insomma che lavorano tra virgolette di più, si meritano un surplus di retribuzione e si è andati a prendere i soldi da quel fondo questo sta facendo un po' arrabbiare, è così? La mia ricostruzione è giusta? La sua ricostruzione è proprio alla lettera del decreto legge ed è una cosa sulla quale noi subito siamo intervenuti nel senso che abbiamo espresso il nostro disappunto la nostra proprio estrema difficoltà a recepire come, come dire, equo un provvedimento di questo genere perché effettivamente si vanno a togliere delle risorse che sono da una parte proprio a disposizione delle scuole per il loro funzionamento naturalmente dall'altra a disposizione dei docenti che appunto vanno valorizzati per il loro merito ora le posso anche dire che dalla interlocuzione che abbiamo avviato con il ministero in tal senso sappiamo che queste risorse saranno in qualche maniera reintegrate ciò non toglie però che ci troviamo dinanzi alla situazione di palese iniquità guardi, l'NP da prima, da subito, è stata l'associazione che ha sostenuto la necessità dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico quindi si immagini, quindi si immagini quanto noi, come dire, possiamo accogliere con evidente riluttanza un provvedimento di questo genere che discrimina chi lavora, chi ha lavorato ma soprattutto chi si è messo al servizio della salute collettiva ciò detto, così è stato scritto nella legge, scritta Manent per fortuna queste risorse saranno reintegrate ma resta il bonus, cioè quello di avere dovuto attingere a questi capitoli di spesa che sono così importanti per la scuola scuola che peraltro non naviga nell'oro come l'eventà ecco, per andare a pagare dei supplenti che legittimamente però sono sul posto di lavoro ah no, è loro anzi, stanno dando modo a tutti di arrivare alla fine certo, e questo aiuta la continuità didattica cioè che i ragazzi non si trovino ad un balletto costante di insegnanti che cambiano da un momento all'altro peraltro ci avviciniamo anche agli esami è giusto che i ragazzi dell'esame del primo e del secondo ciclo abbiano anche certezza su quello che è il lavoro ecco da svolgere fino a quel fatidico momento anche perché le ordinanze che riguardano la nuova maturità sono arrivate praticamente l'altro ieri professoressa, noi lo sapevamo all'inizio dell'anno ti ricordi Gianluca? come no? bei tempi, noi lo sapevamo a settembre adesso si sa a marzo come sarà la maturità ecco, lei professoressa da questo punto di vista eleviamoci rispetto a questa distorsione che stiamo commentando i ragazzi stessi, gli studenti, le studentesse chiedono una scuola ripensata, rivista una scuola che non venga modificata in corso d'opera con l'idea magari anche che basta cambiare l'atto ultimo di un ciclo di studi l'esame di maturità, l'esame di terza media per dire ho messo mano alla scuola ecco, lei da questo punto di vista ha delle speranze che si possa intervenire lo si possa fare andando incontro a questa richiesta? allora guardi, io credo che sia doverosa una premessa siamo stati in pandemia, la pandemia è come una guerra a eventi eccezionali, a situazioni eccezionali si risponde anche con delle soluzioni eccezionali ecco, questo proprio per dire che comunque ci sono delle attenuanti, mettiamola in questi termini ci ho detto, la pandemia ha dimostrato che questa è una scuola che si è impostata per troppo tempo su una didattica che è palesemente obsoleta che va superata e quindi tutte quelle storture di questo sistema che la pandemia non ha messo in dice ha reso proprio macroscopiche ha reso sempre più evidenti devono essere necessariamente eliminate per far questo occorre intanto una grande volontà politica quella di far sì che come dicono sempre i vari esecutivi che vogliono che la scuola sia al centro del paese bene, che sia al centro del paese non solo con le importantissime risorse del PNRR che incidono su aspetti decisivi quali ad esempio le infrastrutture e quali il reclutamento qual è la formazione del personale ma che soprattutto incidano sugli ordinamenti bisogna intervenire quindi normativamente bisogna intervenire sugli ordinamenti della scuola perché essa sia legata ad un modello innovativo stimolante di appeal che trattenga gli studenti ricordiamoci che gli studenti di oggi non sono come siamo stati io o lei cioè persone che avevano fondamentalmente nella scuola l'unico vero riferimento formativo i nostri studenti oggi possono pescare informazioni e stimoli da ogni dove non è più la scuola l'elemento centrale allora la scuola deve avere appeal che non significa che deve farsi bella deve cercare chissà quale operazione di marketing o di diciamo di lifting ma proprio lavorare sui fondamentali deve essere una scuola innovativa che guardi alla didattica per competenze che usi metodologie innovative e stimolanti che soprattutto istruisca questi ragazzi a muoversi nella complessità tenendo come dire come punto di riferimento la necessità che siano cittadini consapevoli delle loro capacità delle loro competenze e soprattutto capaci di adeguarsi ai contesti che cambieranno costantemente e oramai non è una cosa che mi invento io lo dicono tutti i politologi e comunque gli studiosi anche gli filosofi il scuola del futuro o meglio la realtà del futuro e parlo già da qui a 5-10 anni vedrà di fatto dei lavoratori che saranno costretti a cambiare mestiere probabilmente quasi costantemente quindi non saranno come noi che probabilmente insomma io sono nata insegnante e probabilmente resterò sempre poi dirigente ma sempre il mondo della scuola ma dovranno cambiare continuamente quindi dovranno sviluppare quelle competenze che permetteranno loro di resistere ai cambiamenti di adeguarsi quindi sviluppare le soft skills ad esempio sviluppare la loro capacità di apprendere sviluppare la loro capacità di sfruttare le competenze trasversali per adeguarle anche a contesti diversi questo dobbiamo fare che arrivino quindi anche da un punto di vista degli ordinamenti ne faccio un solo esempio questa terribile didattica digitale integrata che sembra sia stata la cosa più demoniaca eppure è stata fondamentale nei momenti più duri lei si immagini quanto questa introdotta ordinamentalmente potrebbe essere utile ad esempio per sviluppare l'attività extracurricolare con i ragazzi che risiedono in comuni molto lontani dalla scuola che altrimenti non potrebbero partecipare a quelle attività altrimenti arriverebbero a casa alle 8 di sera di fatto non si riposerebbero mai ecco pensiamo alla valenza che si può dare alla didattica digitale integrata in un contesto normativo rinnovato naturalmente intervenendo sul regolamento dell'autonomia scuola sì questo è un aspetto molto un elemento di grande interesse le occasioni di riflessione che ci ha dato questa fase storica che rischiamo di buttare via sull'altare insomma dei soliti dibattiti abbastanza sterili e auto referenziali in questo momento molti bambini molti studenti provenienti dall'Ucraina già accolti nelle nostre scuole sono impegnati contestualmente sia con le attività scolastiche delle scuole italiane ma tutti i dirigenti scolastici stanno consentendo loro di seguire anche le lezioni a distanza con i loro insegnanti in Ucraina con i loro compagni che sono sparsi per l'Europa ecco non è il momento severo del lockdown è un altro momento terribile e drammatico è quello delle bombe pensi però alla valenza straordinaria della didattica digitale integrata o della DAD per questi studenti che hanno bisogno di mantenere la relazione con i loro insegnanti con la loro lingua con i loro compagni ma certo professoressa ma solo gli iconoclasti a cui piace distruggere anche forme di innovazione perché magari hanno paura che la loro tradizione didattica possa essere soppiantata non ha capito che invece questo è un percorso parallelo che deve assolutamente intervenire ma all'estero l'hanno già capito perché uscivano 5-10 anni fa addirittura articoli che elogiavano la didattica a distanza perché semplicemente permetteva ad un ragazzo che si trovava in una zona magari più depressa socialmente del nostro pianeta di poter entrare a contatto con docenti universitari europei veniva sottolineato questo in Italia si trasforma in oddio il sacrificio della didattica tradizionale dove non è proprio questo il tema però lei ne ha toccato un altro professoressa Scicolone interessante quello del cambiamento in corso anche a livello di quella che è la modernità professionale le varie competenze il cambiamento dei posti di lavoro qui per quanto riguarda la formazione delle nuove generazioni qualcuno ci potrebbe vedere un pericolo e le confesso ce lo potrei vedere anch'io il fatto di abituarli o comunque renderli consapevoli di quelli che potranno essere diciamo gli sviluppi delle attività professionali in futuro può magari far rischiare ecco qui alla formazione di base la storia la matematica la geografia l'italiano di essere un po' sacrificata sull'altare di arriviamo però al tema della competenza arriviamo al tema del multitasking arriviamo al tema della preparazione in questo senso come si trova un equilibrio tra le due cose guardi si trova da un punto di vista ordinamentale in realtà già praticamente nell'articolo 8 del nostro regolamento sull'autonomia parlo di un testo del 1999 è detto già che la valutazione o meglio che il sistema scolastico persegue quello che è una finalità altissima vale a dire gli obiettivi di apprendimento che sono legati alle competenze quindi non c'è in realtà uno scontro tra i saperi quelli che chiamiamo il nozionismo in qualche modo comunque i contenuti disciplinari e le competenze i contenuti disciplinari sono degli strumenti per arrivare alle competenze tant'è che lei ricorda bene come tante volte ne facevamo lo stesso argomento però magari con diversi docenti toccandolo da più punti quando ben si rende conto come in realtà quel contenuto disciplinare che poteva appartenere alla storia alla filosofia e magari all'italiano o qualche altro in realtà era lo strumento che permetteva di acquisire la medesima competenza in più settori quindi in realtà il contenuto disciplinare è servente è ancillare rispetto alla competenza la competenza è di per sé sempre trasversale e quindi abbraccia i vari campi del sapere la cosa importante è però far capire ai nostri studenti come quel determinato contenuto sul quale ero interrogato in italiano poi in storia e poi in filosofia non era un contenuto diverso era lo stesso e quindi dobbiamo lavorare sull'incontro tra le competenze e le competenze sono venuti meno anche nell'ambito del lavoro determinati schematismi adesso c'è la ricerca magari di un manager laureato in lettere piuttosto che la vecchia diciamo così associazione laurea in economia manager magari si fanno altri si studiano altri tentativi in questo senso non solo io lo confermo abbiamo dati molti dati sotto questo punto di vista di laureati in quelle che erano possiamo dire oggi non si chiamano più facoltà si chiamano corsi di studio corsi di laurea umanistici bene che sono proprio ricercati dalle grandi aziende proprio perché perché molti di questi laureati possiedono quelle soft skills che sono poi fondamentali che probabilmente anche le discipline umanistiche permettono di acquisire probabilmente con maggiore forza ciò non toglie che chi sia laureato in discipline scientifiche non le possieda ma senz'altro certi studi certi tipi di apprendimenti gli sviluppano permettono di sviluppare delle competenze che probabilmente ti fanno muovere meglio ad esempio nella selezione del personale e nella redazione dei testi guardi penso c'è un corso di studi in Italia abbastanza recente che si chiama informatico umanistica sembra una cosa assurda sembra in realtà ha a che fare col corso di laurea di lettere cosa significa? Significa che si cercano probabilmente di coloro che conoscono anche la programmazione informatica sapendo però dare anche dei contenuti a quello che poi producono e quindi c'è un incontro tra l'aspetto umanistico e l'aspetto scientifico diciamo da Foscolo a Steve Jobs potremmo dire assolutamente Steve Jobs come dire faccia all'anima sua sarebbe sicuramente favorevole a un discorso di questo genere Steve Jobs probabilmente uno che ha avuto una tale visionarietà da poter comprendere appieno come in realtà il sapere fosse talmente multiforme e complesso da sfuggire a forme diciamo di compartimento stagno insomma il sapere è un magma continuo dove tutto rientra l'importante è avere le chiavi di lettura per questo sapere e soprattutto fare in modo che il sapere non sia sterile cioè che contenuti non siano fine se stessi ma che mi servano a fare e a comprendere questa è una cosa importante professoressa un'ultimissima domanda veramente necessita poi di una risposta se vuole anche flash una preside romana di un liceo romano in questi giorni è finita al centro di una gogna mediatica che io stesso poi personalmente condanno perché ovviamente non ci sono elementi utili per né condannare né assolvere non è nemmeno iniziata diciamo così un'inchiesta in merito la cosa che volevo sapere da lei se la professoressa la preside in questione ha chiesto in qualche modo sostegno ad ANP in qualsiasi tipo di modalità guardi mi permetta di non rispondere in maniera diciamo esaustiva a questa domanda le dico solo che c'è un procedimento ispettivo in corso quindi in questa fase non è bene alimentare ulteriori diciamo discussioni ulteriori ecco aprire ulteriori spazi rispetto a una vicenda che da un punto di vista mediatico da un punto di vista giornalistico mi permetta si commenta già da sé però posso chiedere una cosa ma non nel merito nella cornice generale diciamo di quello che allora dal punto di vista giudiziario a lume di naso non mi sembra che ci siano presupposti di indagini legali giudiziari di alcun tipo ragazzo maggiorenne eccetera eccetera però le chiedo nell'ambito diciamo di una codice deontologico non non nello specifico del caso in generale che cosa si prevede diciamo nei comportamenti del rapporto docenti dirigenti scolastici può accadere che nasca un flirt nell'ambito della scuola o questo non è ammesso dovete verificare alcuni aspetti di queste di queste dinamiche le chiedo proprio come cornice generale normativa proprio sì non so se sono norme sì forse sì sono norme o comunque codici scritti e non scritti all'interno della scuola ci sono anche mariti e mogli ne assicuro quello lo so sicuramente però nel rapporto ovviamente studenti docenti studenti dirigenti se c'è qualcosa che si applica allora sicuramente c'è qualcosa che rileva da un punto di vista diciamo del codice disciplinare del codice soprattutto deontologico come giustamente lei richiamava che è quello che pone in essere il docente o il dirigente scolastico in una posizione sicuramente di forza rispetto ad altri ad esempio in merito anche a quella che potrebbe essere l'intervento rispetto alla loro sfera giuridica questo è un aspetto che può essere dilevante poi ci ho detto ogni caso naturalmente va analizzato osservato va analizzato e soprattutto bisogna capire e non è certamente il nostro compito come in realtà siano andate le cose l'unica cosa a cui mi appello è che veramente i media non insistano su una cosa che francamente trovo che abbia raggiunto dei livelli di pruderie e disesperazione particolarmente eccessivi ci ho detto mi metto anche in evidenza come sui social che comunque io frequento ho notato una grande solidarietà comunque nei confronti della vicenda e dei protagonisti della vicenda dal momento che obiettivamente averli così messi su un piatto tanto come dire appetitoso nei confronti appunto di una pruderie collettiva che evidentemente sarebbe nata di lì a poco non ha sicuramente reso un buon servizio non tanto ai protagonisti della vicenda che troveranno gli spazi e i modi per dire la loro quanto proprio all'idea di giornalismo in Italia grazie brava ha fatto bene a sottolineare questo aspetto non aggiungiamo altro professoressa un giorno dovrebbe stare sui giornali un giorno la notizia c'è non è che non c'è però basta un giorno e poi si poteva pubblicare chat io su questo sono completamente d'accordo con la professoressa poi con tutte le cose a cui dobbiamo pensare le chat va bene ecco direi grazie grazie a Sandra Scicolone dirigente scolastica NP grazie per la disponibilità professoressa noi ce ne andiamo dove? in pubblicità sì un attimo che è proprio qua dietro poi torniamo un attimo dal nostro regista che ricordiamo sempre è l'uomo che sbaglia sotto pancia vediamo la linea a lui e poi torniamo in diretta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti